Ciao briciola! Adesso con l'orologio delle tonalità possiamo calcolare tutte le tonalità partendo dalla base che ogni tonalità deve avere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo grado agli stessi intervalli della scala di Do. Quindi avremo 1, 2 toni, un semitono, 1, 2, 3 toni e un semitono. Per esempio proviamo a fare la scala che comincia dal Fa. Per fare la scala che comincia dal Fa prendiamo l'orologio delle note e dobbiamo mettere il Fa al posto della prima nota. Adesso vediamo che alterazioni ci sono nella scala di Fa per avere appunto la scala di Fa uguale alla scala modello che è la scala di Do. Quindi la prima nota briciola sarà Fa, la seconda Sol, la terza La, la quarta La diesis. Attenzione briciola, quando noi facciamo una scala le note devono essere appunto nell'ordine della scala e non si può ripetere due volte il nome di nota. Quindi la nota dopo il La non sarà la diesis ma briciola? Si bemolle. Bravissimo! Ripetiamo allora. La prima nota è Fa, poi Sol, poi La, poi Si bemolle, poi Do, poi Le, poi Mi, poi Fa. Ecco perché briciola nella scala di Fa maggiore e quindi anche nella tonalità di Fa maggiore devi sempre inserire il Si bemolle, addirittura mettendolo dopo la chiave, così che varrà per tutto il brano. Se io suono la scala di Fa senza Si bemolle, la scala di Fa non assomiglierà alla scala di Do. Quindi nella scala di Fa maggiore abbiamo un bemolle in chiave, cioè il Si. Capito briciola? Grazie. Grazie.